Siglato l'accordo tra provincia di Milano e Arpa, che prevede l'attivazione del coordinamento volto a presidiare i cantieri delle grandi opere come Brebemi, Pedemontana e Tem e quelle in vista di Espo. L'accordo è stato firmato dall'assessore all'ambiente Cristina Stancari, dall'assessore alla polizia provinciale Stefano Bolognini, dall'assessore alle infrastrutture Giovanni De Nicola e dal presidente di Arpa Enzo Lucchini. Un accordo importante per la trasparenza dell'ambiente? Sì, noi puntiamo molto sulla trasparenza, sulla legalità, per questo motivo che abbiamo deciso di siglare questo importante accordo fra tre assessorati della provincia di Milano e Arpa, proprio per il controllo e il presidio delle grandi opere. Qua in provincia di Milano sono 134 chilometri interessati dalle grandi opere, quindi parliamo di numeri importanti oltre al cantiere di Expo. Pensiamo che sia necessario avere una tutela, una garanzia anche per le aziende che lavorano e quindi sapere come ci si comporta e ci si regola nei confronti di materiali riciclati che eventualmente possono essere presi e usati in queste grandi opere. Per il monitoraggio di tutti i grandi cantieri e delle infrastrutture che vengono a essere realizzate sul nostro territorio, enti e settori diversi hanno competenze diverse, col protocollo, con le procedure che oggi vengono formalizzate, tutti potranno agire ancora con maggiore efficienza. La Polizia Provinciale nello specifico ha tutta una serie di partite importanti sul controllo dei documenti, quindi la parte amministrativa che è in capo a noi, ma anche poi attraverso alcune strumentazioni nel rilevare sostanze improprie nella movimentazione della terra, nella formazione dei cantieri. Questo accordo che oggi firmiamo con l'ARPA insieme agli altri due colleghi, Stancari e Bolognini, certifica un'altra cosa, che il 50% del materiale che viene dai cantieri o che entra nei cantieri deve essere innanzitutto certificato e tracciabile, ma poi deve essere materiale che viene o dal cantiere o da altri cantieri o da impianti di riciclo di inerti. ARPA si propone con questo accordo di essere supporto tecnico-scientifico per l'attività che la Polizia Locale farà sui cantieri. D'altra parte questa nostra disponibilità, a secondo una scelta fatta come piano di lavoro per il 2012, che è quella di incrementare i controlli straordinari, quindi quelli non dovuti per legge, nei cantieri. Grazie a tutti.